amici di milan.soccer buongiorno e benvenuti a terrazza milan versione quark oggi vogliamo parlarvi della sindrome della junter è una patologia particolarmente grave quando qualcuno dice a qualcun altro ciò che vorrebbe essere e per questo prova un forte senso di rabbia si parla di invidia quando poi l'invidia raggiunge la sua massima espressione allora accade che colui che invidia diventa come l'invidiato e si comporta ancor peggio di colui del quale diceva tanto male e la sindrome della junter e sei amici perché è successo ancora ed è successo che nel calcio attuale la nuova juventus quella che per tutti era scusate hanno già dato rigore alla juventus beh adesso la nuova juventus e l'inter essi perché ne dice di tutti i colori ma poi è quella che si comporta peggio allora che cosa sta succedendo sta succedendo che ieri o meglio l'altro ieri in quel di firenze l'arbitro valeri si è comportato in un modo che potrebbe rimanere negli annali dopo che è stato operato con un intervento da codice penale jack bonaventura ci è voluto il var per andare a vedere se fosse rigore ma ovviamente oltre al rigore espulsione diretta l'arbitro si dimentica assolutamente cartellini gialli rossi ma di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di una cars classe arbitrale totalmente inadeguata stiamo parlando di squadre che fino a ieri si lamentavano di altre squadre che oggi hanno un atteggiamento a dir poco preoccupante è quello che è successo con fiorentina inter intanto possiamo dire che per il momento c'è una piccola fuga quindi stiamo parlando degli inseguitori che sono inter e juventus in questo momento inter juventus inseguono l'inter poteva arrestarsi perché il pareggio sarebbe stato più che sufficiente ma grazie all'arbitro valeri e al solito venuti l'inter tiene il passo delle due inseguitrici che sono la juventus e appunto l'inter e la piccola fuga è data da la vittoria del milan dal vittoria del napoli la vittoria della lazio mentre roma udinese e atalanta hanno perso e quindi diciamo che si sono staccate doma o meglio napoli milan e lazio dunque possiamo parlare di fuitina mentre per entrare juventus di inizio di rincorsa di rincorsa peccato perché se non ci fosse stato l'arbitro valeri diciamo che probabilmente l'inter si sarebbe fermata come appunto la roma l'atalanta l'udinese ma sapete è importante certificare questi errori perché poi tutto va nel dimenticatoio abbiamo pensato tanto alla copertina perché scrivere sospeso perché magari seppur in un piccolissimo canale a proposito e scrivete così diventiamo sempre più numerosi ma seppur in un piccolissimo canale bisogna far vedere certificare che quella volta quando ci hanno detto che noi abbiamo rimesso dieci metri avanti mentre in questo caso un giocatore dell'inter ha operato letteralmente jack bonaventura senza ricevere un cartellino giallo un cartellino rosso diretto poi passiamo al rigore il portiere tocca decisamente prima il pallone mentre ieri irrati stesso rigore va al var e dice no scusate è vero tocca prima il pallone quindi non è rigore due metri due misure due risultati e guarda caso tutte e due questi risultati sono sfavorevoli al milan per cui bisogna considerare questo aspetto bisogna considerare questo aspetto e allora noi vogliamo certificarlo valeri è stato sospeso giustamente ma inutilmente perché anche quando è successo a noi per cui l'arbitro è andato addirittura a chiedere scusa ecco diciamo che non serve a niente ma serve a certificarlo per cui la prossima volta che qualcuno dice il milan ha rimesso dieci ovviamente zitto come si chiama mariotto 10 come si chiama il direttore del corriere dello sport non mi viene in mente mariotto il giudice di ballando con le stelle gioca la serie a e lui fa il giudice di ballando con le stelle ma dove siamo arrivati e non dice niente questa volta non dice più niente mentre in questo caso noi abbiamo deciso appunto di certificarlo dunque si va verso dinamo di zagrabria si va verso zagabria si va verso la sfida di con lo dinamo di zagabria e ancora una volta al milan capita un arbitro che si conosce ecco un arbitro che si conosce questa volta l'arbitro è un polacco non mi ricordo assolutamente il nome lo vado a cercare chi via via toski via toski l'abbiamo conosciuto quando il milan ritorna in champions in quella di liverpool sconfitto per 3 a 2 gol annullato ci è il rigore al liverpool non è stata una delle peggiori partite degli arbitri che abbiamo incontrato in champions si è andata a vedere qualche video fa ho fatto una sintesi di tutti gli errori arbitrali in champions ma questo signore ce lo ricordiamo quindi diciamo che da un certo punto di vista se valeri è sospeso diciamo che noi siamo sospesi nel giudizio che toccherà dare a questo polacco un arbitro che a me fa letteralmente paura perché non ci pensa due volte a munire e a espellere quindi bisogna stare molto attenti ed essere molto intelligenti e non fare falli o andare a protestare eccetera eccetera quindi ripeto questo questo arbitro che ci che arbitrerà dinamo zagabria milan del 23 ottobre smart 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 far class è un polacco questo polacco appunto lo abbiamo già incontrato e staremo a vedere intanto Più tardi vedremo le news sulla formazione, Diaz non è un infortunio importante, stessa cosa di casi per Dest, quindi non è lesione ma affaticamento, quindi bisogna considerare che forse probabilmente potrebbero esserci in quel di Zagabria o comunque sicuramente rientreranno in campionato. Ma poi per le buone notizie faremo un servizio dedicato a alcune info e news anche di mercato, ma questo ne parliamo domani. Un abbraccio da Terrazza Milan, ciao!